In cui ha creduto in vita Che cos'è la regione dei cieli? Commento Nel piano mentale, la regione dei cieli è lo stato di coscienza in cui il trapassato esperisce l'aldilà in cui ha creduto in vita o la non-esistenza di un qualsiasi aldilà in cui ha creduto in vita. Nel piano astrale, invece, l'individuo esperisce solo ciò in cui ha creduto in vita tanto che, dopo essere trapassato, continua a credere di non essere morto.